I toscani non sono immuni dal gioco d'azzardo, che per molti rischia di diventare una vera patologia che necessita di essere curata. Per questo la regione toscana ha presentato una campagna dal titolo Quando la vita è un gioco, è in gioco la vita, in partenza per un mese il 18 febbraio, con brochure, affissioni su strada, sui bus e sulla tranvia, su radio, tv, quotidiani e social, per un investimento di 180.000 euro. E poi c'è il numero verde 800 88 1515, a cui rispondono psicologi e psicoterapeuti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Perché è necessaria questa campagna? Perché è una delle azioni che rientra nel piano che noi abbiamo approvato contro il gioco d'azzardo e perché il tema della prevenzione è una delle linee d'azione principali di questo piano che abbiamo varato con una delibera del 2018 e sul quale abbiamo investito circa 3 milioni di euro. Della campagna fa parte anche il logo No Slot, destinato a tutti i locali che decideranno di non installare le macchinette per giocare. I dati dell'Agenzia regionale di sanità dicono che la prevalenza di giocatori patologici coinvolge una fascia tra lo 0,5 e il 7,6% della popolazione. Nel 2017, secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato, la raccolta di denaro del gioco è stata di 4 miliardi e 800 mila euro con il record di Prato, dove la spesa media pro capite è stata di 2.948 euro e i più a rischio sono i giovani. Abbiamo un dato che ci dice che le generazioni più giovani però stanno un po' migliorando, questo dato di ARS, questo è importante ed è il motivo anche che spinge a fare campagne di comunicazione perché riteniamo che l'informazione e la prevenzione sia uno strumento imprescindibile e forse il più utile per ridurre la possibilità di giocare, di accedere al gioco come se fosse una soluzione ai propri problemi, ma soprattutto per informare che il gioco può diventare a tutti effetti una dipendenza.